Discutere nel merito del ricorso senza tener conto degli ultimi provvedimenti adottati dal Comune non avrebbe avuto senso. Per questa ragione gli ambulanti attraverso sindacati illegali hanno chiesto ai giudici del Tar di rinviare l'udienza sullo spostamento a Campo Genova della fiera bisettimanale. Agli atti verrà legata e contestata all'ordinanza di sabato scorso che individua la nuova sede e che mancherebbe però di autorizzazioni amministrative da parte di Asle Arpac. Se il Comune ci darà un'area dignitosa siamo pronti a svolgere il mercato dicono in conferenza stampa stiamo agendo per legittima difesa. Si affronta anche il capitolo morosità ribadiscono di voler pagare gli ambulanti le cifre che le passate amministrazioni per incapacità non hanno mai chiesto ma di voler essere messi nelle condizioni di farlo. Stiamo agendo per difenderci è la sintesi mentre sul ricorso al Tar. È pacifico che l'ordinanza così come del sindaco era stata emessa per evitare che oggi il Tar congresso era sospensiva e il nostro legale ha riuscito a impugnare anche la delibera 41 e di agganciare al ricorso già presentato dei motivi aggiuntivi per dimostrare che l'area attualmente così com'è non è fruibile per fare il mercato. La giustizia potrebbe avere tempi lunghi, sabato come vi comporterete? Se sabato il piazzato, quindi l'area che il comune ha individuato in maniera provvisoria e temporanea sarà attrezzato in maniera minima e dignitosa affinché gli operatori possano fare il proprio lavoro, nulla a questi. Però ad oggi siccome non stiamo partecipando a queste tavole che il sindaco sta facendo singolarmente con alcuni sparuti operatori io non so se sabato ci saranno queste condizioni, vedremo che cosa succederà. Grazie. Grazie. Grazie.